Isa, la voce! Tommaso, la fisarmonica! Grazie mille, grazie a tutti! E ora continuiamo ancora la grande tradizione dell'orchestra Castellina Pasi. Eh sì, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di tutti questi bei musicisti. Facciamo un grande applauso a tutti coloro che io ho ora alle mie spalle, ma sarei io a dove stare dietro, perché, credetemi, è davvero una grande emozione avere dei grandi musicisti, dei grandi nomi qui con noi, ad accompagnarci addirittura. Ma grazie, grazie mille. E allora, signori, senza troppe spiegazioni, del titolo vi dirà tutto. Per voi, tutto? Pepe! Grazie mille. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.